Sì Antonia, iniziamo subito su SkyTG24. Guerra Ucraina-Russia, media Mosca preparata ad attacco nucleare contro Paesi Nato. Lo rivelano file segreti visionati dal Financial Times. Prosegue l'avanzata di Kiev, ma non interessa l'annessione del territorio di Kursk. L'Ucraina riceverà una degna risposta per la sua invasione della regione, minaccia Putin. Primo obiettivo nel conflitto è ora quello di espellere le forze di Kiev, afferma lo Tsar. Il comandante delle forze armate ucraine, Sirsky, assicura che il territorio conquistato è pari a mille chilometri quadrati. Mosca accelera l'offensiva nel Donetsk. Invece su Anza l'Iran non attaccherà se i colloqui porteranno alla tregua. Lo affermano tre altri funzionari iraniani. Teheran vuole partecipare ai negoziati con un rappresentante che non sarà coinvolto nei colloqui diretti, ma manterrà un canale di comunicazione con gli USA. Meloni sente Netanyahu, serve de-escalation e cessate il fuoco. Poi andiamo su TGCon24, la cronaca. Prato, 19enne cinese, è trovato morto in strada. È stato ucciso. Secondo gli investigatori, Hu Lipeng sarebbe morto dopo essere precipitato dal terzo piano di un palazzo in cui si trovava l'appartamento di un connazionale. ADN Cronos, invece, Torino, bimba di due anni, muore dopo essere stata investita nel parcheggio di un ospedale. La piccola, trasportata d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita, è morta dopo il terzo arresto cardiaco. Erano queste le notizie dall'Italia e dal mondo, Antonia. A te la linea.